Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha partecipato ai 50 anni in Alabama della storica marcia di Selma. Parlando alla popolazione, Obama ha detto Ferguson non è un caso isolato e certamente Selma non riguarda il passato. Selma e ora. L'evento è certamente importante. Proprio 50 anni fa la polizia caricò violentemente la folla enorme che protestava per il diritto di voto agli afroamericani. Ma la circostanza cade anche in un momento in cui tanti episodi legati al razzismo, all'uso eccessivo della forza e ai metodi discriminatori della polizia scuotono e dividono diverse comunità degli States.